Igualmente, vero? Sì, esatto. Dell'ultima intervista che abbiamo fatto. Questo per comunicarvi che abbiamo messo in servizio, perché sono già effettivamente in servizio, tre nuovi autobus che sono andati a sostituire i tre cacciamali tesi, che come vi ricorderete erano stato oggetto dell'incidente che è successo lì il 21 settembre, se ricordo bene. Sì. 21, sì, sì. Sabato 21 settembre. Gli altri tre mezzi, quindi due più o meno di fatto sono, entreranno in servizio a gennaio prossimo. Quindi l'intero stock del modello in questione verrà sostituito. Quindi i sei cacciamali tesi che avevamo in giro per le nostre valli vengono tutti sostituiti con veicoli nuovi. Assolutamente. Cioè nuovi mezzi o mezzi che sono stati deviati? No, 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 nuova acquisizione. Quindi li abbiamo comprati nuovi, giusto per intenderci bene. Questi sono stati.